dell'aeronautica militare, quindi a un certo punto nel suo discorso generale buongiorno, ben trovato, grazie di essere qui, Draghi dice per questo siamo pronti a contribuire con circa 1.400 uomini e donne dell'esercito della marina e dell'aeronautica e con ulteriore 2.000 militari disponibili così il presidente del consiglio durante... Allora, questo tema delle forze armate della possibilità di muovere uomini, insomma, delle forze armate italiane si sta concretizzando e ci sta pensando, cioè, cosa sta capitando da quel punto di vista militare? Poi le faccio un'altra domanda che l'ho accennato prima, cioè su Kiev, sappiamo che i russi sono alle porte della città, sappiamo che i cittadini cercano di resistere ma che è tutto molto complicato. La mia domanda è, potrebbe essere un'occupazione lampo quella da parte delle truppe russe di Kiev? Molto rapidamente, per quanto concerne la prima domanda, si tratta di una procedura assolutamente normale e regolare. Abbiamo una crisi ai confini della Nato con alcuni paesi che si affacciano dove si stanno verificando dei combattimenti è giusto, è doveroso rinforzare la presenza militare della Nato in quei paesi al fine di agire come deterrente. Quindi noi dobbiamo dare anche evidenza a paesi come l'Estonia, come la Lettonia che confinano con la Russia e questo è una cosa, direi, curiosa. Putin non vuole la Nato ai suoi confini però accetta che ci siano i confini con la Lituania e con l'Estonia Me la mettete la cartina mentre parla il generale? Così ci rendono conto anche da casa di quello che sta dicendo, che è molto interessante come ragionamento Eccolo qua, eccolo qua, esattamente questo Noi abbiamo l'enclave di Kaliningrad che è completamente circondata da territori Nato, dalla Polonia e dalla Lituania Quando con la fine della Guerra Fredda venne creata questa situazione io inorridì perché dissi abbiamo ricreato Danzica Dobbiamo tenerne conto perché la cosa è abbastanza delicata ma tornando alla sua domanda abbiamo la possibilità, l'opportunità e il dovere di rinforzare nella nostra presenza sul territorio della Nato senza un assetto offensivo ma con un assetto difensivo proprio per dare evidenza che siamo pronti nell'eventualità che succeda qualche cosa di inatteso e di indepreclabile ovviamente Per quanto concerne la seconda domanda è difficile fare delle previsioni chiaramente perché dipenderà molto dall'atteggiamento del governo di Kiev delle disposizioni che impartirà della efficacia della sua catena di comando diciamo che l'ipotesi più disastrosa sarebbe quella di avviare una battaglia casa per casa, portone per portone come si suol dire che avrebbe delle conseguenze terrificanti per la popolazione civile sarebbe un problema tattico molto difficile per gli attaccanti molto difficile ricordiamo tutti quanti quello che è accaduto in tempi non lontani a Grozni quando la resistenza dei Ceceni è durata per dei mesi con il risultato di una città che è stata praticamente annientata quindi questa è l'ipotesi diciamo peggiore anche perché ieri addirittura si parlava solo di obiettivi militari cioè è cambiato molto la percezione vede, vede, i soli obiettivi militari presuppongono l'impiego massiccio di armamento di precisione che è armamento di precisione che ha una sua percentuale di efficacia se io sgancio mille bombe e la mia percentuale è il 90% cento bombe vanno dove non devono andare e quindi i danni collaterali comunque ci sono ma dobbiamo anche riconoscere che il concetto di danno collaterale nella dottrina militare russa è estremamente sfumato per usare un eufemismo gli esempi anche recenti in Siria ci dicono che ad esempio che non c'è stato nessuno scrupolo nell'impiegare armamenti come quello delle bombe a grappolo che non riescono a distinguere tra il militare e il civile quindi sono letali per chiunque è chiarissimo generale, ho capito benissimo cosa vuole dire arrivo a Massimiliano Romeo perché sul tema delle sanzioni Romeo si è restati sempre molto cauti devo dire che ancora due giorni